ciao zio salve questo è il mondo di abaga vaga benvenuto ah ti rubo le cose tu ti trovo io vado a uccidere il testo che mi sta sulle palle ma c'è che è l'ultima scrivere basta ah tutti morti ah grande andiamo bene io vado avanti dunque la prima vecchia non mi ricordo mai dove è già saltata oh 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 mi sono che brutta cosa ecco la vecchia dai non puoi andare neanche ma perchè mi ha preso vaga vaga non è vero no ma che cazzo è dai dai si ma non avete idea non avete idea no no è la terza cazzo di volta che ero dentro mi prendi ma come stai a destra che secondo me in teoria perchè ho trovato tre scheletri dietro alle spalle a caso questa non mi ricordo l'amica di naruto ma come si chiama l'amica di naruto quella timidina sakura no no quella timidina vabbè cioè aspetta ho beccato due volte il fan due volte il fan si esatto ho beccato due volte un fantasma che assomiglia a quella tizia lì ok si grazie vaga ah ok benvenuto nel mondo ah grazie allora lo rifaccio perchè turco non l'ha visto bene ciao mi piace stare sulle porte va bene io me la prendo coi barboni no ma vaffan no co cosa cazzo è successo io vado sempre a uccidere il mio amico mi da fastidio che sia uno scheletro a random messo qui ma tu che ormai sei esperto di dual wielding insomma ah ok bravi non la trovo ma cosa è possibile che io stia raggando nel mio mondo non penso vaga nooo ma la smetti vaga di morire prego non me ne frego un cazzo di sto boss non lo voglio mai più fare in vita mia no 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 ma lo faccio per i cazzi miei da solo ma questione personale ormai si 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 me ne frego un cazzo andiamo via da sto boss va bene ho messo il segno delle vocazioni proprio sulla porta ma ma così tanto sulla porta che non si vede neanche lo metto sopra anch'io signori dai mi faccia uno sconto per livellare dai 300 anime non ci credo sai quante me ne mancano? una nooo 667 bellissima ti hanno evocato vaga? si ma ti ammazzo i maiali no vedi ti ammazzo tutti vedi vaga se tu avessi battuto il carro potremmo fare un pvp adesso invece di fare sta stronzata ti mettono te il simbolo e io non ce l'ho e allora e bene ok cani oh questi cani qua mi mi fanno sempre parecchio perchè io vaga ho preso una chiave prima si lo so e credo che quella chiave credo ok oh yeah bing ok ahia grazie così questi segreti li deve scoprire da solo uhuuu stiamo ammazzando il tempo crit ditemi dove le mettete oh oh stiamo ammazzando il tempo e non solo ah signor balestriere ahi quanto ho ricaricato in fretta bastardi andiamo di qua però stavolta ok ok vabbè io la seguo ahia ognuno va in una strada diversa io vado in questa terza strada ok ma dovete obbedirmi ci incontrerete maledetto ma in realtà fa ahia nella strada ma allora sento dei rumori sono i miei e sono i miei passi si sono i tuoi mi sono i tuoi arrivo madonna che pro ah ok oddio oddio sto spavendo tutto oddio sono morto come cosa sta succedendo oh che carino io sono respawnato proprio lì dove sei morto quindi è come se la mia avventura continuasse normalmente wow niente che più bello quello wow il tipo che cagata ahahah bene ci siamo formazione battaglia wow bello bello dai cloba siamo giù vai è andato e sto e magari vado in quello oscuro vuole servire no un pochino volevo romperlo permesso senti un po' tu che dici oh sono inutili sono inutili e invece sono molto utili uh io di solito per nominare uso questo eh si bello molto che cos'è? un ninja ah è uno di quei cani ok uh abbiamo platone qui allora aspetta che mi tolgo il fatto ma esci silenzio oh eh eh si ma tranquilli che cosa se si non fate caso al signore del mondo no no infatti no infatti no aspetta aspetta turchi non andare di la prima c'è un'altra cosa qua ti stai perdendo va bene grazie grazie per avermelo detto eh sì perché sennò qua non la finiamo più ci si può andare? dove è Baga? dove sono? ci guardiamo lassù sopra in alto tu ti sentiresti a tuo agio in prigione turchi? me ne vado ciao oddio e questo cos'è? ma salve ma anche bello trovarsi tutti qui oddio chi è? chi è sto qua? ciao progetto incenso bene molto utile oh cazzo oh non volevo scusate ma che strano oddio chiamarla segreta incredibile yeah chiamarla segreta è proprio un compliment oh ma se io salgo di qua e faccio un nome oh 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 mi scusi boh che è successo? ma ok questa qua è la nebbia che si vedeva all'inizio inizio inizio proprio si indovina chi è? quest'uomo si quello che mi vende le robe che mi interessano esatto spade si è lui merda non ho il ramo c'è pure un falò dietro tra l'altro però vabbè che sfiga però boh fare il boss di così col falò ma si ce la facciamo che palle ma vaffan ma quanto però so siete carichi? si e invece antichi ma ah sei sicuro che voleva scendere di qua? esatto ah tipo niente wow questa cosa non c'era il falò ma hanno ancora capito il senso sinceramente e lì c'è l'ingresso e lì c'è l'ingresso e lì c'è tutti vicini vicini questo ok nooo perché c'è un oggetto lì c'è un oggetto non lo vedo io bene occhio eh adesso però sei formato di una situazione oh oh buttati che ti prendo al volo dai è solo dell'acqua non ti fa male esatto Uli c'è una scritta da evocare ma ce ne sbattiamo no 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 fallo fallo è Solair se è Solair lo evoco no Lucatiel va bene ah e chi è Lucatiel? come chi è? come chi è? servirebbe che vi guardate dietro io ve lo dico oh cazzo arrivo che non sto facendo una segna li ho consumati a furia di axe i muri eh ma tu hai la tastiera tra l'altro quindi? eh si ma dire invio fa bene è brutto eh esatto esatto e dire shift sinistro è ancora più brutto non c'è un oggetto neanche lì? voi non potete passare no non c'è eh cadi madonna madonna che paura ma lei guardone e niente io vado a destra allora ti faccio un attacco dall'alto ti fai male credo? si no infatti non lo voglio fare per un cazzo ok bene siete pronti ragazzi? si oltre quella porta c'è l'inferno si si signor capitano e noi ci andremo dritti dritti si oddio che salto sto sto già morendo oh cazzo parto malissimo da fuori beh ha parato tutto no è buio non vedo no non toccare la niente cazzo 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 madonna che mira ma no è morta proprio nooo è morta nooo è morta ma povero non ti dimenticheremo mai non ti dimenticheremo mai rip in pace e niente sono qui al buio e ho paura il